Continua a spingere subito, dai 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 dai, segni e chiudi, segni e chiudi E va subito vai, continua a spingere, continua a spingere, continua a spingere, verso di me, non bollare, non bollare, continua a spingere Oggi finalmente è il grande giorno come vi annunciavo nell'ultimo video, oggi proverò il massimale di stacco e panca Sono un po' teso, finché altro perché non so cosa aspettarmi Andiamo a fare colazione che sono le sette e mezza e alle nove devo essere in palestra Siccome non ci stanno, li metto qua dentro Sono venuto su a mangiare perché abbiamo degli ospiti in casa, cioè un ospite, una nostra amica E quindi dorme nel soggiorno e diciamo che non è al massimo, far casino, ok comunque è presto Oggi proverò anche questo integratore che mi è arrivato ieri, che ho preso sul sito di Foodspring Con il mio codice RiccardoFSG E praticamente è l'integratore che dovrebbe aumentare il flusso sanguigno Una cosa naturale, sono i flavanoli del cacao e bisogna mantenere l'elasticità dei vasi sanguini E quindi contribuire al normale flusso sanguigno Sono 30 capsule e ne ho preso una 40 minuti prima del workout Quindi oggi proverò anche queste Bene, sono arrivato in palestra Mettiamo le scarpettine da stacco Inizierò ovviamente dallo stacco che è la cosa più pesante E poi farò la panca Adesso farò il riscaldamento a 70 kg, 120, 160, 190, 2,10 No, scusa, 160, 190, 2,10 E poi faccio l'ultima a 220 che sarebbe il mio vecchio maximale E poi vado avanti a singole Siamo arrivati a 190 Ancora una singola, metto la cinta Il tipo di prevenzione Sciottino di caffè Ok, 2,10 fatti Il coach devo stare più calmo Perché le ho un po' tirate di schiena Adesso devo fare 2,20 la singola Che sarebbe il mio vecchio massimale Consideriamo che non sono in un periodo fresco Cioè vengo da un programma tosto E poi vediamo cosa esce Però comunque la gara da aprire oggi è solo un test Quindi più calmo Calmo però Pingendo Chiedaglia Ok Ok Da qua Schiacci Meglio di prima Voglio fare 2,30 Sì, sì Voglio provarli Oggi invece il buon Luca Dovrà fare un max rap Con 2,25 Comunque adesso proviamo i 2,30 Chi sarà un PR per me se li faccio Perché non li ho mai fatti Però comunque il coach continua a dirmi Di non preoccuparmi Perché continua a dirmi Di non preoccuparmi Perché comunque è normale Che io sia in questa condizione fisica Perché veramente il programma che ho fatto È distrutivo Anzi lui ha detto che Già tanto se sono sano Senza infortuni Dai Lu Dai è tutta Bravo Dai 2 3 4 Dai 5 6 Continua Ancora 1 Dai Dai Eh ma i powerlifter Fanno solo due colpi Sono pronto per fare i 2,30 Vediamo se salgono Oh Attacca Ricchia Volta la testa Attacca Continua ad accelerare Dai Ricchia Continua a spingere subito Dai 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 Segni e chiudi Segni e chiudi Giù Tanto 10 kg di pierre Facciamo la panca Vediamo come va No ma sono tanti Sono tanti Sono tanti Sono tanti Comunque ora Mi scaldo la panca E parto Vediamo cosa tiro fuori In panca Ok sono a 110 Ne faccio 3 3 3 Mi hai messo tu 3 3 2 2 Dai Dai Ah si Eh Figa bastarda ma tu mi hai messo 115 per 5 Ci sono arrivato sotto la prima volta Ok faccio 1 a 120 e poi vediamo Cosa esce Sono pronto per fare il 130 che sarebbe un PR E vediamo Cioè l'avevo fatta una volta ma con l'aiuto di Anto Quindi non li conto 35 Va bene Vamonos Mi interessa depresso ora tocca ai parti deciso 1 Allora è un azzardo Vuoi provarli? Eh ne hai fatte due Proviamoli È un azzardo Un azzardo lo so Proviamoli vaffanculo Dai caldo Già avevo fatto 15 kg di pierda sulla panca dall'ultima volta Tantissimo È ovvio è un azzardo È un azzardo adesso provare questi 140 ma perché non provarli Al massimo i miei agli rimarrò sotto Amen Devo fare anche di fretta che poi devo scappare al lavoro Vabbè comunque 15 kg di pierda l'abbiamo fatti Quindi vaffanculo a tutti Ah divertiti Le pieghe spingi Fatti Non ti arrendere qua Ti schiaccia giù Non bollarlo al petto Cioè tienilo Tienilo e poi dal petto esplodi Non possono andare Mi sembra i fulacchi 3 2 1 Dai Rick Via Subito vai Continua a spingere Continua a spingere Continua a spingere Non bollare Non bollare Continua a spingere Faffanculo Non faccio gridare Per una certa le sentivo Eh eh Si è uscito fuori Vabbè dai Fateli voi 15 kg di pierda Lui o da adesso Dai Chi è più grosso Votate nei commenti Ah Rosso c'è Un po' di papo al petto C'è Diamo Un po' di papo al petto Un po' di papo al petto Un po' di papo al petto